Dillo a Telerama, Taranto, bella ma trascurata, la segnalazione da parte di un gruppo di telespettatori, alcuni dipendenti dell'Exilva. Le immagini testimoniano lo scempio. Siamo nei parcheggi e nelle strade adiacenti, le complanari, dello stabilimento siderurgico di Acciaierie d'Italia. Al cospetto di queste immagini sale davvero un sentimento di vergogna, degrado, rifiuti di ogni tipo nella non curanza dei proprietari di questi luoghi. Acciaierie d'Italia può consentire che un suo stabilimento siderurgico, tra l'altro celebrato tra i più grandi d'Europa, dia di sé questa immagine? Si parla di transizione energetica, riqualificazione ecologica, un'Exilva moderna e competitiva. Qui invece siamo all'ABC dell'igiene pubblica. Qui ci rivolgiamo alle autorità preposte, tutte, perché è davvero uno sconcio che passa sotto gli occhi di tutti, soprattutto gli occhi delle migliaia di lavoratori che ogni giorno frequentano quei siti, tra immondizie di ogni genere e che dal loro canto dovrebbero redarguire chi tra loro, pochi speriamo, sparge rifiuti ovunque. Le immagini parlano chiaro, speriamo di sollevare il problema e qui ad essere coinvolti non è soltanto Acciaierie d'Italia, qui la brutta figura la facciamo tutti, nessuno escluso. Grazie.